questa che vedete qui non so, oggi si è stanco questa che vedete qui è la piazza di San Francisco chiusa che dà sul piazza di San Francisco? adesso, se non ci schiacciano ci viene a fare di chiudere il piazza San Francisco e c'ho una fame di merda sinceramente perchè? perchè qua vendono solo pannotti per cazzo se no vendono patatine, rosa del genere si mangia poco per restare il bello e qua a Cusco praticamente non si mangia questa è la stagione delle piogge ora comincia a piove pesantemente un'altra volta questa è la stagione delle piogge ci vedete, a mette tanto? sinceramente sto imparando quei video Quelli che faccio oggi Di condivido stasera Non c'è niente da fare, non si può uscire Adesso comincia Parapioggerella Devo fidare pesantemente La stagione delle piogge Fino alle 11.30 Non lo so Vediamo che si mangia qualcosa da Tante belle cose Chi è questo? Una nuca